Un piccolo chiarimento, c'è qualcuno che dice ma il Veneto ha eliminato le mascherine, il Veneto non ha eliminato le mascherine, il DPCM prevede che la mascherina si utilizzi, questo accade in tutta Italia dal 18 maggio, tranne che in Veneto che aveva una condizione più restrittiva, allora noi diciamo che da domani, lo informiamo i cittadini, la mascherina va utilizzata nei luoghi chiusi, il negozio per capirci, il supermercato, l'ufficio postale, la banca, il medico e nei luoghi aperti dove non ci sia la possibilità di avere il distanziamento sociale che sono la coda fuori dal supermercato piuttosto che ci fosse una manifestazione. Poi c'è, ma che storia è? Certo proprio ci volevi solo tu, proprio e solo tu. Sei in forma, uè, solo in forma a sé, sai che sei un bel fenomeno, però, o pago io o fai no. Sai che cosa c'è? Non importa che, quando tocchi il fondo, vieni su, vieni fuori oppure non ci vieni più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.